I cassonetti a calotta utilizzati da alcuni giorni in alcuni quartieri di Ferrara ed in graduale estensione su tutto il territorio comunale continuano a far discutere e ad intervenire sul caso ora è il gruppo GOL che in una conferenza stampa ha sottolineato le numerose perplessità attorno alla nuova modalità di raccolta rifiuti. L'amministrazione ed ERA in particolare dicono che è indispensabile avere nella nostra città una differenziazione del 70% per raggiungere degli obiettivi a livello regionale. Se gli obiettivi di differenziazione devono essere raggiunti a livello regionale noi diciamo che la carta smeraldo è completamente inutile per questo obiettivo infatti a Bologna non viene usata, si usa il porta a porta e dei contenitori sommersi per l'indifferenziato. A Modena non c'è la carta smeraldo, si usano anche qui o dei porta a porta oppure dell'indifferenziata totale o altri sistemi e c'è sempre ERA. A Ravenna la carta smeraldo non esiste, esistono i contenitori a calotta che sono contestati perché hanno delle dimensioni modeste secondo diversi utenti ma la carta smeraldo non viene usata. E allora io mi chiedo ma qual è il motivo per cui a Ferrara viene imposta la carta smeraldo per raggiungere un obiettivo del 70% a livello regionale e nelle altre più grosse città della regione lo stesso obiettivo non si cerca. Durante l'accesa conferenza è stata annunciata una manifestazione che il gruppo Gol ha organizzato per venerdì 29 settembre alle 18 con partenza da Piazza Municipale che attraverserà le vie del centro storico per dire di no ai nuovi cassonetti. Tanti problemi sottoposti, dai costi di ERA che, dati alla mano, ha 15 membri nel proprio CDA con 5.200 dipendenti a fronte degli 11 membri del CDA di una multinazionale come Fiat con 130.000 dipendenti. Al potenziale aumento della spazzatura lasciata per strada in seguito alle difficoltà di utilizzo delle nuove calotte. E poi la risposta al video di spiegazione dei cassonetti realizzato in dialetto. Una scelta definita offensiva replicata a breve da un nuovo video che sarà diffuso via social network. Più in generale, Gol ribadisce la propria distanza da quella che è stata definita una imposizione di ERA. Continueremo a rifiutarla e lotteremo per la liberazione da ERA da parte di questa città. Ci saranno dei comitati che fisseremo ovunque, faremo anche dei comitati referendari se sarà necessario e se non viene immediatamente bloccato questo barbaro sistema di raccolta rifiuti, che non è vero, che serva per differenziare al 70%. Noi siamo per la differenziazione, ma non con la carta smeralda.